Ma io prima di tutto direi a tutti i guaratini, a Camestad, buonasera a tutti. Il Tricolore è l'inno degli italiani, è uno spettacolo che noi abbiamo sponsorizzato in varie parti d'Italia. Pensate che al Teatro Massimo, a Palermo, l'abbiamo riempito ed è un grande teatro. A Verona è stato un successo e me l'hanno richiesto. E mi sono detto, lo faccio e lo promuovo in varie parti d'Italia, perché non nel mio paese. Se mai nelle vicinanze dell'anniversario della festa delle Forze Armate, che sarà il 4 novembre. Ecco che lo abbiamo organizzato grazie anche a uno sponsor che ci ha dato una mano, grazie alla benevolenza dell'amministrazione comunale e a qualche amico, come il colonnello qui, il maggiore La Stella, che si è dato da fare per organizzare tutto quanto. In altre occasioni lei ha detto che l'esercito non è soltanto difesa, ma è anche promozione del territorio e cultura. Oggi ci ritroviamo a dire le stesse cose. È proprio così. L'esercito non è solamente difesa, ma è anche un esercito duale, un esercito che è utile, e lo ha dimostrato nella sua storia, anche nel soccorso delle popolazioni in difficoltà. Proprio stamattina a Bari, dentro la città di Bari, abbiamo concluso una esercitazione di protezione civile, con un grande ospedale da campo, schierato, proprio dentro una piazza di Bari. È stato il modo per renderci visibili, è stato un modo per parlare alla gente, far capire che ci siamo, siamo efficienti, abbiamo bisogno anche del loro supporto, del loro consenso. E' stata una grande opportunità per lavorare insieme alla Croce Rossa, alla protezione civile e al 118, con le autorità locali. Meglio di così, insomma, non saprei. Grazie.